Will Show, un giovane imprenditore, vola in Spagna per trascorrere le vacanze con la sua famiglia. All'aeroporto il ragazzo viene accolto dal padre, il critico d'arte Martin, con il quale Will ha sempre avuto un rapporto complicato. Durante il tragitto verso le yacht, i due iniziano a litigare perché Will passa tutto il tempo al telefono. Sul muolo, il nuovo arrivato viene accolto da Lori, sua madre, e tutta la famiglia si dirige verso il mare, sperando in una vacanza spensierata. La sera, la famiglia si riunisce intorno allo stesso tavolo, ma Will continua a distrarsi con le telefonate, infastidendo il padre. Alla fine, il ragazzo deve confessare che la sua azienda è folita poche ore prima. Il giorno dopo, Martin porta la barca in mare aperto, sperando di interessare i figli, ma Will non muola il cellulare e questo fa sì che durante una piccola scossa, Dara, la ragazza del fratello Josh, si faccia male. Arrabbiato con il figlio, Martin getta il telefono in acqua e chiede che il figlio pensi ai problemi più tardi quando sarà da solo. Per calmarsi un po', il ragazzo lascia la barca e si dirige in città. Nel frattempo, Martin nota una strana imbarcazione che gira intorno all'Oriot fin del mattino e i sospetti del capo famiglia non sono vani. Tornato a riva, Will nota che la loro barca non si trova da nessuna parte. I tentativi di scoprire qualcosa dei pescatori e dai turisti non hanno successo, così il ragazzo deve fare il giro della costa per trovare finalmente la barca in una laguna vuota. Salendo a bordo, la barca si rivela vuota e Will capisce che è successo qualcosa di terribile alla sua famiglia. L'imprenditore arriva al dipartimento di polizia locale, dove all'inizio non gli prestano attenzione, ma non appena il capo del dipartimento sente il cognome del ragazzo, i poliziotti iniziano a fare un gran casino. Di sera, un gruppo di poliziotti con Will arriva nel luogo in cui ha ancorato l'Oriot, ma il ragazzo si accorge che i poliziotti si comportano in modo strano e uno sconosciuto sta già aspettando Will sulla riva al quale verrà consegnato. Intuendo di essere in pericolo, Shove sfugge ai poliziotti e raggiunta la loro auto, cerca di nascondersi, ma questi lo raggiungono rapidamente e deve subire delle percosse, che sarebbero potute finire male se Martin non fosse apparso improvvisamente nelle vicinanze. L'anziano lontano il figlio del luogo, svelandogli che Andrea Ita non è uno storico dell'arte, ma un agente della CIA che ha servito il governo per circa 20 anni e che ora la sua famiglia è stata rapita a causa di un oggetto robato dalla CIA. Il telefono di Martin Squilla e una certa Carrack li fissa un appuntamento, nonostante l'ora tarda, ma prima di farlo i due si fermano nell'appartamento segreto, dove Will scopre che Martin ha una buona scorta di armi. Prima dell'incontro con Carrack, Shove lascia un messaggio per un certo Diego e nel frattempo, da qualche parte in un luogo isolato, un cecchino prepara un fucile per incontrare la gente. Martin dice al figlio che Carrack è una sua amica, ma anche che non vuole che Will si esponga e chiede al ragazzo di restare in macchina. La gente si incontra con una collega, esortandolo a restituire la voligia robata agli uomini che hanno rapito la sua famiglia, e Carrack promette al suo amico che penserà a qualcosa, ma appena torna in macchina, il cecchino preme il grilletto. Will non si accorge di nulla, l'anziano cade proprio davanti a lui, e prima che il testimone venga colpito, ha solo il tempo di afferrare il telefono e la pistola e scappare. Dopo aver risposto al telefono, Will sente la voce dei rapitori, che per qualche motivo chiamano suo padre Tom, ma ora il ragazzo non ha tempo di occuparsene e deve partecipare alla sparatoria, in cui un poliziotto viene ucciso e l'intera unità di polizia lo insegue con il criminale. Nascosti in una toaletta, Will cerca di riprendere fiato e di capire cosa fare dopo. Le viene l'idea di chiedere aiuto all'ambasciata e per questo attacca la guardia, ma la conversazione con l'agente speciale non porta a nulla, l'ambasciata dichiara che nessun Martinshaw lavorava per loro. Inoltre, Will viene a sapere di essere accusato dell'omicidio di un agente di polizia e tutto ciò che l'ambasciata può aiutarlo a fornire è un avvocato indipendente che rappresenta i suoi interessi. Tuttavia, l'atteggiamento del consulente cambia dopo aver ricevuto una telefonata. Chiede a Will di scendere al piano di sotto dove qualcuno lo sta aspettando. Il ragazzo viene accolto dalla mercenaria Jane Carrack che le chiede di salire in macchina. Per allontanare i sospetti, la donna descrive a Will dettagli della sua infanzia che il padre poteva raccontare solo agli amici più intimi. La donna non nasconde che Martin è stato ucciso sul suo ordine, ma assicura a Will che il vecchio non le ha lasciato scelta, voleva tradire il paese e lei doveva fermarlo. Le domande di Carrack mettono il ragazzo in agitazione e lui finge di sentirsi male, riuscendo così a fuggire. In quel momento squilla il telefono di Martin e i rapitori le ricordano che stanno aspettando la voligia del vecchio e che anche il fatto che sia stato ucciso non cambia le condizioni, altrimenti la famiglia rapita sarà uccisa. Nel registro delle chiamate, Will nota il numero di Diego, che Martin ha chiamato spesso e colendo l'occasione, il ragazzo decide di chiedere aiuto. Arriva l'indirizzo indicato, Maria un killer lo sta già aspettando e il ragazzo deve salvarsi di nuovo e questa volta anche salvare la giovane Lucia, che non si fida di nessuno degli uomini. Will spiega alla ragazza che suo zio Diego è in pericolo e si recono a casa sua, ma si rivela troppo tardi, l'amico di Martin è già morto e nell'appartamento la coppia sente voce di sconosciuti. Gli ospiti si rivelano essere Carac e il suo fedele mercenario. Proprio mentre discutono di Will e della necessità della sua morte, il ragazzo entra in cucina e prende i criminali sottotiro. Will cerca di conoscere i dettagli del rapimento della sua famiglia, ma una luce a furiosa rovina la conversazione e Carac riesce a prendere la pistola. I ragazzi sono costretti a fuggire da un'uscita sul tetto ed arrampicarsi sui cavi per salvarsi la vita. L'agente del posto aiuta Will a realizzarsi dopo una brutta caduta e lui si lontana di nuovo, facendo arrabbiare Carac. La donna pedina la coppia, cercando di eliminare il testimone inutile, ma ogni volta qualcosa le impedisce di farlo. Lucia si accorge che Will è ferito da un proiettile e lo porta nello studio della sua amica. Will svegna per il dolore, ma le ragazze riescono a salvarlo. Quando Will si sveglia, Lucia vuole sapere in cosa l'ha coinvolta. Quando vede una foto del padre del ragazzo, è molto sorpresa e dice di conoscere bene Tom e di non capire per chi Will lo chiami Martin. Will sospetta che la giovane ragazza sia l'amante di suo padre, ma Lucia ammette che Martin era suo padre e che aveva una relazione con sua madre. Will chiede alla sorella di accompagnarlo nel luogo in cui incontrerà i rapitori e durante tutto il tragitto cerca di scoprire dettagli sulle affari del padre. Will si rifiuta di andare con lei perché pensa che sarebbe pericoloso, così Lucia gli dà l'indirizzo di un locale dove potrà trovarla dopo l'incontro con i banditi. Nel luogo indicato, uno sconosciuto si avvicina al ragazzo sotto le menti despole di un turista che gli ordina di seguirlo. Nell'auto, Will perde i sensi e quando si risveglia si ritrova in una stanza dove la sua famiglia è tenuta in ostaggio. Dopo alcune spiegazioni, il capo dei rapitori spiega al ragazzo che ha bisogno della valigia che ora è in possesso di Carrack. Promette di lasciare andare la sua famiglia se Will condurrà la banda di Carrack e vi tornerà a recuperare il prezioso oggetto. Il ragazzo viene buttato fuori dall'auto fuori città e si incammina verso il club dove Lucia lo sta aspettando. Will racconta Lucia ai suoi amici il pieno della banda che prevede che lui conduca i gangster a Carrack e che tutta la compagnia lo aiuti a vendicare la morte di Diego. I ragazzi usano una carta di credito sapendo che Carrack la rintraccerà per trovarli rapidamente. E così il mercenario si presenta al club e gli amici di Lucia lo invitano a fare due chiacchiere. Anche Will si unisce alla conversazione strapando la guardia del corpo tutte le informazioni di cui ha bisogno. Lasciandosi finalmente le spalle del mercenario, Will ordina i suoi amici di lasciarlo libero per poterlo seguire e raggiungere Carrack. Il mercenario si rivela così stupido da condurre Will fino al parcheggio sotterraneo dove avrà il trasferimento della valigia. I giovani vengono raggiunti da alcuni membri della banda che sperano di intercettare la valigia. Uno dei ragazzi sale direttamente sull'auto di Lucia avvertendolo che sono della sua parte mentre l'altro cerca di cominciare Will ad andare in un posto sicuro ma il ragazzo non accetta di seguire gli ordini finché non sa dove si trova la sua famiglia. La discussione fa sì che gli uomini si comportino in modo molto rumoroso e Carrack capisce che qualcuno li sta inseguendo. Dopo aver eliminato i suoi partner prende la valigia e cerca di fuggire. Segue lo scontro a fuoco e a un certo punto Will ha la possibilità di recuperare la valigetta ma mentre salva Lucia e si sbarazza del mercenario Carrack raccoglie l'oggetto smarrito e se ne va. Will insegue Carrack per tutta la città demolendo tutto ciò che incontra sul suo cammino. Dopo un lungo inseguimento il ragazzo tenta di speronare la sua auto ma la gente riesce ad allontanarsi e i giovani volano contro una vetrata. Carrack sconvolta apre il fuoco sui civili e quando Will tenta di fuggire gli avversari si scambiano i ruoli ora la gente insegue il ragazzo. Rendendosi conto di non riuscire a scappare Will taglia la strada dall'auto del rivale che si ribalta. Anche il ragazzo finisce sul tetto. Carrack si diverte a guardare il ferito Will uscire dall'auto mentre Lucia non si riprende affatto. La cattiva è sicura che questa sia la fine, che il ragazzo non avrebbe alcuna possibilità di recuperare la valigia e salvare la sua famiglia e che in generale questa sia la sua morte. Ma in quel momento qualcuno spara a Carrack e Will vede comparire intorno a sé molti uomini armati tra i quali riconosce il principale rapitore della sua famiglia. Portando via i ragazzi e la valigetta il gruppo scompare prima dell'arrivo della polizia lasciando a terra solo il cadavere dell'agente Carrack. Il ragazzo viene portato nell'hangar della sua famiglia e durante il tragetto il bandito gli dice che Martin era un ottimo agente e che sarebbe stato orgoglioso di suo figlio. Fuori dall'edificio dell'ospedale Will incontra un agente segreto che le restituisce i documenti e lo invita a sostituire il padre nel servizio della CIA. Il ragazzo rifiuta l'offerta ma è curioso di sapere di cosa si trattava e cosa era contenuto nella valigetta. Sfortunatamente non può saperlo perché sono informazioni riservate. Il ragazzo racconta suo fratello Josh e di Lucia offrendoli di conoscere la sua nuova sorella. Se ti piace questo genere ti consiglio di guardare il video Tutti odiano questa ragazza e l'accusano di omicidio ma poi ottiene la sua vendetta meritata.